Sono dovuta volare fino in Finlandia per provare la prima 1.4 prodotta, la prima di 333 esemplari. È l'Audi 4 degli anni 2000 e siamo andati sul lago ghiacciato di Molanda. La guardi da lontano e sembra una piccola utilitaria da città, invece è una scatoletta piccola e cattiva, una macchina da rally da 50.000 euro che però solo una decina di persone potranno spendere in Italia perché tante sono le vetture che arriveranno nel nostro mercato. Certo la cifra è alta, va detto però che l'equipaggiamento di serie è talmente sontuoso, compresi i 14 altoparlanti Bose che ci sono dentro l'abitacolo, che non sono nemmeno previsti equipaggiamenti di serie, non ci sono optional in listino per la 1.4. Grazie a tutti!